Ciao a tutti squalotte e squalotte, io sono Squalo e oggi siamo in un nuovo video del Battlelands che oggi siamo con leone e scinghia allora oggi faremo che loro due mi dovrebbero comandare su questo gioco cioè se tipo troviamo un'arma devo prenderla è... vero ragazzi? si questo qua non c'è l'Alessandro questo signore è troppo... è vecchio, c'è il canno e avete due? zero allora aspettate un attimo ok ragazzi allora ora apriamo il nostro baule vediamo cosa c'è boom ok 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 molto bello vero? ok ok ragazzi quello che avete visto era quello che abbiamo trovato va bene scimmia leone scegliete dove... come possiamo fare va bene? va bene? allora andiamo in due andiamo a comandare una alba aspetta ok ora siamo con maradona sette sei 5, 4, 3 No, ci ho mandato Così siamo con Maradona Allora, prendo quest'arma Questa qua è più forte Prende la più forte Allora questo Non ho preso qualcosa Eh, Lucia Vabbè, è brutto Prendo questo O rimango quello che ho io No, questo qua è scarso Prendo questo L'hanno ucciso Ti vengo a salvare Amico Oddio, mi devo vendicare E se ne è andato Bene Prendiamo questa carta Oh, prende quello No, no, no È più forte questo Ragazzi, dobbiamo vendicare il nostro amico Presi abbiamo pochissimi Stimissimi Eccolo Trovare il città Sì, 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 sì Sì, sì, sì Dove non è andato, però Dove non è andato, però Ok, lotta, non fa di loro Io scappo Un altro ridikit, vai No, 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 no Mi sono arrabbiano, vabbè, sono undicesimo. No, no, che io. Non ce ne sono, no? No, no. Adesso. E chi sa, papà? Attento. Aquila. Allora, lui è Aquila, ragazzi, ok? Ora cosa scegliamo? Allora, da soli, con una persona o con altre tre persone? Da soli? Due persone. No, dai, andiamo in solitario, ok? Poi, chi mettiamo? Tra loro due. E andiamo. G-Bones. Andiamo a G-Bones. Chi piace G-Bones? Sì, mi ride, ride molto. Guarda, tanta quanta gente. Eeeh, c'è, non botto. Sì. In quattro secondi sono tutti tutti questi. Ah, per me. Oh, mio Dio. Hai nove. Dove atterro? Oto. Dove atterro, ragazzi? Oto. Dove atterro? Dove? Eh, qua, ok. Ti va bene qua, lo sai? Sì. Zero, zero, zero. Il gioco è bugato, il gioco è bugato. Eeeh. Il gioco è bugato. Iiii. Allora, ora siamo da soli. Il medikit non ci serve, che non dobbiamo curarci. Andiamo nella A, vero? Lo lutto. Lo apro? Sì. Sì. La prima arma che... Bella. La prendo? Sì. Sì. Mmm. Ho visto qualcosa? Sì. La prendo. Vero, Aquila. Vero, vero. No. 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 Non c'è schifo. Prendiamo questo. Sì. Ok. Oh mio Dio, la safe. Oh mio Dio, sono in safe. Aquila, dove vai? Aquila. Oh mio Dio. Non mi sono proprio accorto. Per pensare a te. Ah. Per pensare a te, Lione. Cattivo. Potremmo andare più quello, eh? Anderlo. Ma che te sei andato? Ascolta che ce ne vai. Non ti penso. Eh. Andiamo sempre in solitare. Con Jim Bones. Ma con Jim Bones. Un po' Jim Bones. Allora, però, dove attiriamo? Sempre qua. No. Qua. Allora, non ve ne dovete andare, ok? Ok. E rimanere con me. Ok. Ok. Ok, sì. Allora. Lo prendo? Lo apro? Sì. Amolo. Bellissimo. No. No. E' anche l'ha venito, no? Ok, guarda quanto è forte. Fortissimo. Oh mio Dio. Prendo questo qui. Sì. Ok, è fortissimo. dobbiamo entrare nel cerchio, sì, perché se no moriamo. il piatto è un po' di più. Il piatto è l'ha tempesta. Trenta, venti, ventiotto, ventisette, ventisei, ventisci. Venti, cavolo, cavolo. Oh, eh, che brutto, mamma mia, è morto. Eh no. Ma, quanto è brutto sto cattivo? Sì, ho ucciso due di noi. Bardac, balla. Questa, balla. Balla. Mamma, però. Ok, ragazzi. Allora. Allora. Mamma mia, che si è detto? Allora, ragazzi, andiamo a combattere sempre in solitaria. e... Cosa fa figlio? Anche tu. La bimba, la bimba. Vedi? La bimba. La bimba. No, non c'è la bimba. Non c'è la bimba. La bimba. Sali la bimba, mamma. Bimba. Allora, quale prendiamo? A o B? B. No, no. No. Brutto, brutto, brutto cretino. Cioè, ha preso la nostra arma. Però se n'è andato. Perché non ci va? Credo che non si va. Sì. Dobbiamo stare sempre nel centro. Vediamo tutti questi colpi. Pesano giallo. Allora. Volga. Non armi. Non armi. Ma vi sei... No, non siamo amici. Bene, se ne hai scappato perché aveva paura. Aspetta. Tre, due, tre, due, tre, due, tre, dieci, nona, otto, sette, sei. Siamo a 105 di pink. Sì. Sì. Zitto. Due. Ma non c'è nessuno. Qua dentro. Buongiorno. Oh, mio Dio. Andiamo a prendere? Cosa? Questo. Eccolo, eccolo, eccolo. È mio. È mio. È mio. Lutto, lutto, lutto. Vai, ragazzi. No. Eh no. Oh. Boom. Balla, fara, fara. Va bene, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un bel like. Iscrivetevi al canale con la campanellina. E da squadro, scimmia, leone. Ciao. 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 Ciao.